Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di finanza personale. So che questo può sembrare un argomento noioso, ma vi assicuro che non lo è. La finanza personale è una delle cose più importanti che potete imparare a fare nella vita. Perché? Perché vi permette di prendere il controllo della vostra vita finanziaria. Vi permette di raggiungere i vostri obiettivi, di vivere la vita che volete e di essere finanziariamente liberi. Ora, so che molti di voi potrebbero pensare che la finanza personale sia troppo complicata. Ma vi assicuro che non lo è. In realtà, è abbastanza semplice. Tutto ciò che dovete fare è seguire alcuni semplici principi. Il primo principio è quello di spendere meno di quanto si guadagna. Questo significa che dovete essere consapevoli delle vostre spese e dovete tagliare le spese inutili. Il secondo principio è quello di investire il vostro denaro. Questo significa che dovete mettere da parte i vostri soldi e investirli in attività che creano ricchezza, come immobili, azioni e startup. Se seguite questi due principi, sarete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Ma non è tutto. Ci sono altri principi che dovreste seguire, come Pagare i debiti il prima possibile Avere un fondo di emergenza Pianificare per la pensione Imparare a fare soldi lavorando in proprio Costruire un'attività passiva che vi generi reddito anche quando siete dormienti Se seguite questi principi, sarete sulla buona strada per raggiungere la libertà finanziaria E la libertà finanziaria è la cosa più importante che potete ottenere nella vita Perché vi permette di fare quello che volete, quando volete e come volete Quindi, cosa state aspettando? Iniziate a imparare di finanza personale oggi stesso Non ve ne pentirete Ecco un elenco di attività passive che possono generare reddito anche quando sei dormiente Immobiliare Puoi acquistare immobili e affittarli a persone che ne hanno bisogno Questa è un'ottima attività passiva perché può generare un reddito costante e può aumentare di valore nel tempo Azioni Puoi acquistare azioni di società che pensi avranno successo Quando le azioni crescono di valore, puoi venderle per realizzare un profitto Fondi comuni di investimento I fondi comuni di investimento sono un modo semplice per investire in un portafoglio di azioni e obbligazioni Questa è un'ottima opzione per le persone che non hanno il tempo o le competenze per investire in azioni da sole Bond I bond sono un tipo di prestito che viene concesso a un'azienda o a un governo Quando acquisti un bond, stai prestando denaro all'emittente del bond e in cambio riceverai interessi su base regolare Patenti Se hai un'idea innovativa, puoi brevettarla e vendere la licenza a un'altra azienda Questo è un modo per generare reddito senza dover fare alcun lavoro attivo Dropshipping Il dropshipping è un modello di business in cui non devi tenere in magazzino alcun prodotto Quando qualcuno ordina un prodotto dal tuo sito web, tu lo ordini dal tuo fornitore e il fornitore lo spedisce direttamente al cliente Questa è un'ottima opzione per le persone che vogliono avviare un'attività online senza dover investire in un grande inventario Affiliazione di marketing L'affiliate marketing è un modo per guadagnare una commissione quando qualcuno acquista un prodotto o un servizio dopo aver cliccato su un link dal tuo sito web Questa è un'ottima opzione per le persone che hanno un sito web con un traffico elevato Blog Se hai un blog popolare, puoi guadagnare denaro tramite pubblicità, affiliazione di marketing o vendita di prodotti o servizi Corsi online Puoi creare e vendere corsi online su qualsiasi argomento di cui sei esperto Questa è un'ottima opzione per le persone che vogliono condividere le loro conoscenze con gli altri e guadagnare denaro allo stesso tempo Consulenza Se sei un esperto in un particolare campo, puoi offrire consulenze a persone che hanno bisogno del tuo aiuto Questa è un'ottima opzione per le persone che vogliono utilizzare le loro conoscenze per aiutare gli altri e guadagnare denaro allo stesso tempo Queste sono solo alcune idee per attività passive che possono generare reddito anche quando sei dormiente Con un po' di pianificazione e impegno, puoi costruire un'attività passiva che ti permetterà di raggiungere la libertà finanziaria Spero che questo discorso motivazionale vi abbia ispirato a imparare di più di finanza personale Ricordate, la finanza personale è una delle cose più importanti che potete imparare a fare nella vita Vi permette di prendere il controllo della vostra vita finanziaria, di raggiungere i vostri obiettivi e di essere finanziariamente liberi Quindi, iniziamo